queste sono le penne con la crema di zucchine di alessio e poi vi passiamo la ricetta cosa ci metti sopra? burrata la burrata penne crema di zucchini o pesto di zucchine crema questo è crema ragazzi non ci sbagliamo e burrata lasciamo gli chef a lavorare ciao e grazie